John Borno ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora io sono rimasto basito e volevo parlare già ieri perché poi le dichiarazioni di De Laurentiis mi avevano fatto riflettere, mi avevano fatto pensare, mi avevano dato degli spunti importanti di riflessione. Però poi è successo il macello della Juventus, il deferimento, le problematiche, i punti di penalizzazione, tra l'altro lunedì, quindi dopo domani, se non sbaglio dopo domani, sapremo il futuro di questa Juventus per il primo dei due tasselli, quindi per quello relativo alle plusvalenze e non per quello relativo agli stipendi che insomma sarà poi un processo da rinviare a giugno. E chiaramente però adesso si fa riferimento a un'altra cosa, cioè all'altra notizia di ieri che però oggi è molto molto forte, oggi è quasi una breaking news per quanto è forte, ovvero che è possibile che Luciano Spalletti vada via. E' molto probabile anzi e non lo sto dicendo io, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo il Corriere dello Sport, diamo i crediti e in parte lo sta, possiamo dire suggerendo, Aurelio De Laurentiis. Perché? Perché se da me viene uno e mi dice, sicca ma l'anno prossimo, secondo te, ti ferai ancora Roma? Io sono certo che ti ferò ancora Roma e quindi la mia risposta è sì, la mia risposta non è vediamo, la mia risposta non è vabbè ma il calcio va avanti, la mia risposta non è ci sono stati tanti tifosi della Roma, che cambia? Se io sono ancora tipo, cioè capite che è un esempio del cazzo, ma capite che anche la risposta non è che sia proprio così tanto positiva, ma voi prima di tutto iscrivetevi al canale. Perché? Perché io voglio arrivare a mezzo milione di iscritti, mi farebbe molto piacere, voi mi seguite in tantissime, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Allora, andiamo a leggere innanzitutto una cosa, cioè le parole Ascai di De Laurentiis e poi passiamo all'articolo del Corriere dello Sport, perché sono due cose fondamentali. Le parole Ascai di De Laurentiis su Luciano Spalletti sono, parliamo, sta parlando di Spalletti, di un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio. Da noi l'ha trovato e ha funzionato tutto, è vero. Speriamo in futuro riesca a esprimere ancora di più la sua capacità di aggregare. Fino a qua uno dice, vabbè, sta progettando il futuro del Napoli, allora questo è un titolo clickbait, allora stai facendo del mero clickbait. No. Perché poi continua, dice, speriamo che riesca adattare ancora più capacità di aggregare, meglio sia Napoli, senza dubbio. Ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile. Non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me, dice De Laurentiis. E queste, ripeto, io ne trovo parole insensate. Perché? Perché se tu sei certo che l'anno prossimo, che so, lo vodka rimanga a Napoli. E ne sei certo, al 200%. Se ti dicono, ma lo vodka che fa? Tu dici, che fa? Rimane a Napoli, sta lì, sta bene, tutto felice. Perché deve andare via? Non dici, non lo so. Io, nessuno deve tarpargli le ali. Non lo devono fare con me, e io non devo farlo con lui. E soprattutto, è bravo a fare quello che fa. Mi auguro che continui a farlo, meglio sia a Napoli. Però, se sa mai, questa per me è una frase che dà, insomma, un senso abbastanza importante a questo video. Poi aggiunge, bisogna restare legati. Io sono legato a Carlo Ancelotti, Walter Mazzarri, Eddie Reia, Rafa Benitez. L'importante è essere gradi, cosa immagina che parli dal passato. A chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Scordiamoci l'ho passato. Simu e Napol Paisà. Ho provato a dirlo in napoletano. Io di napoletano non so. Io napoletano non sono. Però queste sono state le parole di De Laurentiis. E secondo me, ci lasciano abbastanza interdetti. E danno una spiegazione, non danno una spiegazione, ma danno un incipit su quello che sta succedendo. Perché pare davvero che questa chiacchierata famosa, tra Spalletti e De Laurentiis, che doveva portare, alla fine, ad un tranquillo rinnovo, pare abbia portato a tutto, forché che ha un tranquillo rinnovo. E l'articolo del Corriere dello Sport dice ci servirebbe, ci vorrebbe un'intelligenza artificiale per riuscire a costruire una rete di Spalletti. Oppure ci vorrà semplicemente, vabbè, un fisico bestiale, quello e quell'altro. A me mi interessa però capire perché potrebbe andare via Luciano Spalletti. Questa è la cosa che personalmente in questo momento mi interessa di più. Perché dico questo? Perché in questo momento pare davvero possibile che Luciano Spalletti lasci Napoli. E vi leggo questo pezzo. Vado sul libero. Dice Tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è gelo assoluto. Giovedì il tecnico toscano non ha presenziato alla conferenza stampa sull'annuncio della sede per il prossimo ritiro estivo. E io pure qua voglio aprire una parentesi. Cioè quando Spalletti ha fatto la conferenza dopo lo scudetto a parte che io l'ho visto un po' piccato, un po' strano, no? Perché che cazzo? Cioè hai vinto lo scudetto, tanto a Napoli non gliene fregarà più niente. Ma gotitela, ma cosa di metterli a dire? No però io guarda che io già sto pensando a domani. Ma chi è che sta pensando a domani? Ma chi è che sta pensando? Lucia! Lucia! Ma chi è che sta pensando a domani? Nessuno! Ma sbracati per terra! Ma divertiti! Ma rilassati! Ma perché? Ma già a me quelle dichiarazioni non mi avevano fatti impazzire perché avevo captato qualcosina che non mi tornava. Però poi ognuno la pensa come gli pare. Fanno la... Lui dice io punto subito domani già lavoriamo. Quello e quell'altro fanno la conferenza stampa nella quale preparano e presentano le date e i luoghi e il luogo della preparazione atletica. Del ritiro estivo Spalletti non c'è. E questo già, secondo me, e secondo Libero anche in questo caso, questo attivo è di Libero Pogliano. E' una red flag, una bandiera rossa. Dice Voci dalla società parlano di un'intesa tra i due che è totalmente crollata. Dopo lo scudetto il patrono azzurro è iniziata a cena con Spalletti. E questa ne avevamo parlata, c'è stata questa cena ufficiale, c'è stata. E due dirigenti, oltre Spalletti, per ringraziare della stagione e presumibilmente parlare anche del futuro della panchina azzurra. L'allenatore non ha gradito alcune mosse del presidente. In primis, la mancata telefonata dopo la vittoria ad Udine. E vabbè. E non solo. Di mezzo c'è anche la questione del rinnovo automatico comunicato via PEC che ha fatto inclinare i rapporti. Cioè, qui lo spiega, il Napoli ha attivato autonomamente il prolungamento del suo contratto fino al 2024. Non comunicandolo però di persona a Spalletti che ha ricevuto soltanto una mail e una lettera consegnata da parte di un dirigente. Spalletti giustamente ha detto perdonami, presi te. Non gli ha detto così, gli ha detto intosato. Mi perdoni. Però, vabbè. Semplicemente qual è il discorso? Gli ha detto, ma scusa, ma noi ci stiamo qua 24 su 24 a lavorare per il Napoli. Siamo sempre in contatto. Dalla mattina alla sera. Tu decidi di rinnovare il mio contratto perché Luciano Spalletti, per chi non lo sapesse, aveva un contratto che scadeva a giugno ma aveva un rinnovo automatico. Se la società avesse voluto, avrebbe potuto rinnovare il suo contratto fino al 2024, quindi di un altro anno. E lui aveva, insomma, penso, almeno io, interesse a prolungare con il Napoli. Appena ha vinto lo scudetto, gli piacerebbe prolungare con il Napoli. No, sarebbe follia dire di no. E De Laurentiis ha pensato bene né di chiamarlo dopo la vittoria, dopo il pareggio di Udine, vittorio con il cazzabile dopo lo scudetto, manco meno lo sanno pareggio, lo sanno vinto comunque dopo lo scudetto, ha deciso di non chiamarlo, cioè non l'ha chiamato, non gli ha detto complimenti, niente, ma soprattutto gli ha rinnovato il contratto mandandogli una PEC. Lui dice, scusa, mi mandi una PEC, una PEC, ma chi so, il tuo avvocato che mi mandi, ma nemmeno l'avvocato rivale in una causa che mi mandi una PEC, cioè veramente, e gli ha rinnovato un foglio da parte di un dirigente, lui è rimasto tipo come un coglione col foglio, ha detto scusami eh, ma chi ha, non mi ha chiamato per farmi complimenti, non mi ha manco chiamato dicendo, oh Lucia, grande eh, allora ti rinnovo il contratto, niente, niente, niente parente, e lui ovviamente si è fatto girare i coglioni, non una parola da De Laurenti, secondo il quale cresce sempre di più la distanza, come riporta il Corriere dello Sport, ecco, se il padrone azzurro non dovesse fare passi concreti verso l'allenatore, quindi, quindi chiedere scusa, questo si intende, o comunque chiarire il perché, poi sappiamo che Spalletti, insomma, è un permaloso, ma di un permaloso, ma di un permaloso, che facciamo prima a fare, a circunnavicare le Indie, come come a me dico Vespucci, rispetto che a farci chiedere scusa da lui, ecco, se De Laurenti, se non gli chiede scusa, lui sarebbe pronto a dare dimissioni, nonostante l'anno di contratto, che lo lega con il Napoli, e quindi perderebbe un anno di contratto, perderebbe i soldi dell'anno di contratto, e darebbe le dimissioni. Spalletti ha rifiutato il rinnovo automatico, attenzione, quindi Spalletti ha detto di no, perché? Perché il rinnovo automatico, cioè la società può rinnovarlo, poi però lui deve dire ok, se lui non dice ok, la cosa non va avanti. Spalletti ha rifiutato il rinnovo automatico, e sarebbe pronto a mettere fine alla sua avventura all'ombra del Vesuvio, subito dopo la conquista dello Scudetto, nonostante le parole rassicuranti pronunciate da De Laurentiis, subito dopo la cena. L'allenatore di Certaldo, Spalletti, non ha gradito il comportamento del suo presidente, che dall'altro lato continua imperterrito per la sua strada. Soltanto un cambio di atteggiamento da parte del patron azzurro potrebbe cambiare la situazione. Ormai è arrivata al limite, adesso la panchina del Napoli traballa fortemente, e il futuro comincia ad essere già incerto. Ora io voglio dire una cosa, vabbè, c'è posta, anche perché l'ho letto da Libero, ma l'ho letto dal Corriere, l'ho letto da diverse serie giornalistiche, più o meno dicono tutte la stessa cosa, e viene riportata. Bisognerà capire quanto sarà vero, quanto sarà falso e tutto quanto. Però al momento questo è. E vi dico, vi dico, ma perché? Cioè perché De Laurentiis starebbe facendo così? Cioè io penso, ma non lo so, non so se è vero, eh. Però mi sembra assurdo. Cioè tu crei un progetto, il Napoli poi è una società a gestione familiare. Cioè la società del Napoli è gestita solo dalla famiglia De Laurentiis, non è che ci sono 189 mila persone, le società di Polaroma ci sono 780 persone che lavorano per la Roma, un palazzo che lavora per la Roma. De Laurentiis ci sono 4 persone, quindi è una società gestita, una società a sottogestione familiare. L'unico non familiare praticamente lì dentro è Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, no? Non so due, saranno una ventina, ma sono una ventina, non sono, non sono 140, 250 eccetera. E sono due figure di spicco. Ma Spalletti ti vince lo scudetto a Napoli, il primo della tua storia. Ma perché, secondo queste fonti, poi non lo sappiamo, magari è tutta una fandonia, però secondo queste fonti, tutte quelle di queste, perché non ha manco fatto una chiamata? Punto 2. Perché non gli ha manco detto, guardi vorrei rinnovarti il contratto, gli ha inviato una PEC, gli ha inviato una PEC, se così fosse, cioè una PEC, se fosse vero, una PEC, e Spalletti ha detto di no. Spalletti ha rifiutato, ha rifiutato il rinnovo automatico. Ora io, io non lo so, cioè io se dovessi poter, dover dire la mia, fare tanta fatica, perché io credo che Spalletti andrà solo peggio di così. Cioè nel senso, io non credo che il Napoli, faccio fatica a credere che il Napoli aprirà un ciclo tipo quello della Juventus, cioè magari ne potrà vincere un paio, altri due in prossimi cinquani, ci può sta, però che ne vinca cinque, sei di fila, io la vedo molto molto dura. Così come che vinca la Champions League, cioè è difficile che vinca la Champions, perché la Champions la vince una squadra l'anno, ci può arrivare, questa è la dimostrazione di saperci stare, è fatto fuori che comunque ha distrutto il Liverpool, hai abbattuto l'Ajax, hai abbattuto il Rangers, hai fatto il tuo, cioè hai fatto molto più che il tuo in realtà, hai fatto molto molto bene, ci può stare che la sogni. Però è una cosa, non dico proibitiva, ma molto molto difficile. Quindi Spalletti, per me per forza di cosa arriverà, la stagione in cui il Napoli, che sia l'anno prossimo, sia tra due anni, sia tra tre anni, sia tra quattro anni, sia tra cinque anni, sia tra dieci anni, arriverà la stagione in cui il Napoli sarà quinto, sesto. Perché capirà? Perché il calcio è ciclico, arriverà un momento in cui, guarda, dice io me ne voglio andare, Osim, dice io me ne voglio andare, non è che si fermano tutti col sangue. E magari la stagione quella lì, sbagli il colpo, invece di prima Osim, prendi il nuovo, il nuovo De Frel, e quindi flopperai, perché può capitare una stagione nei prossimi cent'anni, e lei spalla e ti verrà messo alla gomia e andrà via. Quindi il fallimento fa parte della carriera di un allenatore. È ciclico, tutti sono stati risonerati, tutti sono stati cacciati, tutti hanno perso la fiducia, tutti, 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 da Murigno a Guardiola passando per Ancelotti o anche per i più allegri, tutti a un certo punto hanno detto o te risonero, o non te rinnovo il contratto, non te lo prolungo, non ti voglio prendere perché non mi piaci. tutti gli allenatori, tutti, hanno avuto un momento in cui una società che ha detto no. Quindi anche Vespalletti arriverà a quel momento, quindi anche andando avanti, anche prolungando, comunque arriverà a quel momento in cui dirai no. Il Napoli, come può rimanere in alto? L'ho letto qualche nome, ho letto Conte. Mi sembra infattibile, mi sembra infattibile perché Conte è un allenatore che costruisce, che ricostruisce, che prende e tira su dal basso. Cioè Conte non è quell'allenatore che ti prende una squadra che ha già vinto e ti alza le aspettative. Certo sarebbe fighissimo vedere Conte a Napoli, però il Napoli esce da vincente. Questa cosa non ce la dimentichiamo, il Napoli esce da vincente. Quindi io non lo so, personalmente non lo so. E penso che anche il Napoli perdendo Spalletti perderebbe tanto. Per me quest'anno, guardate raga, che il merito dello Scudetto mai come quest'anno è 33% Spalletti, 33% Giuntoli, 33% Squadra e 1% Culo, perché il culo 1% c'è sempre, quindi visto che c'è un bacetto lo diamo al culo, ma non perché il Napoli abbia avuto culo, 1%. Però, parte il culo che ha distrutto qualunque, diciamo allineamenti degli astri, però 99% è tutto merito, è uno degli scritti più meritati che io ricordo quando faccio da 11 anni di YouTube e questo è uno dei più meritati, forse più meritato di questo c'era solo quello che la Juventus fece 102 punti, 103, 102, 102 mi pare, e questo è, e questo è, e poi che vi dico, e poi vi dico che non lo so, non so quale sarà il futuro, è difficile, però se così dovesse essere, se questo dovesse essere il quadro, mi incuriosisce particolarmente perché, perché potrebbe cambiare tutto, potrebbe cambiare tutto senza spalletti, con spalletti potrebbe cambiare il futuro di Kvarskele oppure no, potrebbe cambiare il futuro di di Osiman oppure no, cioè è tutta una situazione in cui in questo momento per il Napoli c'è un grosso punto interrogativo e personalmente ho grossi dubbi su quello che potrebbe essere il futuro di questo Napoli con con spalletti ho delle certezze senza spalletti personalmente per come sono fatto io ho dei grossi dubbi ma questi come sempre sono i miei due centesimi io dico la mia e finisce là fatemi sapere la vostra sono curioso sono curioso pazzesco raga grazie a tutti